perché si sceglie un partner narcisista che significato può avere questa scelta e come la psicoterapia può aiutare la persona sofferente che è vittima di un narcisista dunque per fare chiarezza diciamo che quando si parla di psicoterapia si allude ad un rapporto tra due individui che insieme tentano di comprendere i significati psicologici delle scelte e quindi degli eventi che accadono alla persona lo psicoterapeuta si destreggia all'interno dell'universo variegato dei temi che caratterizzano la psiche del paziente indicandogli le migliori strade percorribili per giungere a scrutare le profondità del suo animo ma cosa offre lo psicoterapeuta alla persona che soffre offre sempre un percorso utile ad affrontare la sua personale forma di sofferenza psicologica ci sono infiniti itinerari terapeutici uno per ogni persona sofferente ma se esaminiamo molti percorsi ci accorgiamo che sono spesso costellati da una figura particolare quella del viaggiatore errante affascinato e spaventato dal mondo della relazione smarrito in una realtà labirintica privo di una identità definita e teso verso una e un inaccessibile e misterioso altro che è ben rappresentato dal narcisista e allora ecco che ad un certo punto del percorso psicoterapico il paziente viene affascinato e sedotto da un'immagine singolare che rappresenta l'anelito che lo spinge oltre l'apparenza e che incarna l'allegoria dell'anima che nel tormento del sapere si muove e si dibatte questo è il momento in cui ci si trasforma in eroi e il momento in cui si diviene sprezzanti del pericolo e dell'oscurità anzi consapevoli del loro ruolo ineludibile e del loro fascino sontuoso il fascino dell'ombra perché solo nel buio e nella luce nella loro coesistenza è rintracciabile la penombra della verità vedete troppo frequentemente siamo chiamati a scindere la nostra parte luminosa da quella razionale e quindi le emozioni i vissuti i sentimenti più profondi e nascosti quasi dovessimo vergognarci dei moti interiori e delle vibrazioni dell'anima e quindi della commozione per esempio quasi questi sentimenti alludessero ad una debolezza dello spirito piuttosto che a un modo più ricco di percepire gli eventi della vita ma cosa ci insegna la psicanalisi ci insegna che i sentimenti sono la base non soltanto del nostro vivere ma solta ma soprattutto del nostro agire costituendo in definitiva il legame tra la nostra anima e il nostro corpo e allora la manipolazione del narcisista può trasformarsi in una valida esperienza esistenziale soltanto se noi abbiamo la forza e il coraggio di aprirci alla nostra dimensione creativa ora in età infantile siamo spinti ad operare una vera e propria rimozione della creatività se osserviamo un bambino ci accorgiamo subito quanto le sue azioni siano diverse da quelle degli adulti e come il suo rapporto con la realtà sia mediato da una inesauribile curiosità i bambini si muovono in maniera meno circospetta meno ansiosa di quanto facciano gli adulti che avendo subito già un certo tipo di esperienza frustrante si aggirano nel mondo con minore spontaneità e immaginazione e con una maggiore prevenzione probabilmente è la paura il vero fattore rimuovente della nostra capacità di pensare in maniera creativa e originale si ripresenta ancora una volta un grosso dilemma se abbiamo rimosso in tempi ormai lontani la nostra capacità creativa come possiamo recuperarla e inoltre questo recupero sarà possibile possiamo tentare una risposta se abbiamo ben presenti due concetti fondamentali della psicologia la relazione intrapsichica e la relazione interpersonale ora esiste nell'essere umano una dimensione intrapsichica depositaria dei suoi conflitti più reconditi e infatti si parla di psicologia del conflitto e possiamo affermare che la conflittualità è una dimensione strutturale alla psiche umana come l'assino di buritano che era indeciso se andare a destra o a sinistra i conflitti ci prendono ci inchiodano e possono distruggerci la vita in genere la coscienza non è in rapporto con il conflitto rimosso tuttavia il conflitto trova il modo di emergere attraverso i sogni ad esempio e persino trova il modo di agire anzi di agirci noi siamo agiti dai nostri conflitti perciò il confronto con questa parte rimossa con ciò che in termini junghiani chiamiamo ombra è estremamente importante per lo sviluppo della personalità la possibilità di contattare parti che vengono rappresentate come diaboliche amplia la nostra coscienza e produce delle trasformazioni fondamentali dunque la psiche comprende un'attività di cui noi non siamo consapevoli così come da un punto di vista fisico noi respiriamo e il nostro cuore batte indipendentemente dalla nostra volontà perché esistono dei muscoli non volontari che permettono ai nostri organi interni di funzionare autonomamente jung chiama se con la s maiuscola questa personalità ampliata non più centrata soltanto sull'io ma sulla relazione tra l'io e l'inconscio il se indica l'unione della parte cosciente con la parte inconscia della psiche e jung definisce per così dire una personalità amplificata questa unione questa relazione che non si identifica più soltanto con la coscienza ora l'altro versante come dicevamo trattato dalla psicologia del profondo è appunto il rapporto interpersonale non solo il rapporto intrapsichico ma anche interpersonale che è strutturale anch'esso alla nostra dimensione psichica addirittura il rapporto nasce ancora prima che il bambino venga alla luce perché la madre instaura una relazione immaginaria con il figlio fin dal primo momento del concepimento la relazione analitica ad esempio è del tutto particolare e si configura sul modello maestro allievo maestro allievo che a sua volta riecheggia i rapporti padre figlio e madre figlio ma mentre il rapporto con le figure genitoriali può configurarsi in un certo senso come un'imposizione genetica dal momento che nessuno ha la possibilità di scegliere il proprio padre o la propria madre o il proprio figlio le relazioni successive invece soprattutto quelle più significative avverranno sulla base di una scelta anche se potrebbe essere una scelta inconscia bisogna tenere presente il meccanismo fondamentale dell'orientamento inconscio verso determinate scelte perché questa consapevolezza modifica la nostra percezione del rapporto si potrebbe affermare che i genitori ci vengono destinati dalla natura mentre i genitori spirituali ce li scegliamo sulla base dei nostri desideri sulla base delle nostre aspirazioni e anche sulla base dei nostri bisogni inconsci chiunque possieda o meno un ruolo riconosciuto può essere da noi vissuto come una guida spirituale se però si instaura un rapporto di fiducia e di dipendenza il leader politico assume spesso l'immagine di un genitore hitler a suo tempo in virtù del carisma e del potere che aveva sugli altri divenne il padre spirituale del popolo tedesco se poi si leggono le lettere a mussolini scritte dalle donne italiane dell'epoca appare evidente che tutte si rivolgevano al dittatore come ad un padre spirituale il problema è che il padre spirituale diventa un'esigenza di tutti noi perché con lui si può generare un certo tipo di rapporto interpersonale in questo rapporto accadono dei fenomeni che sono capaci di evocare direi quella ripresa della dimensione psicologica che abbiamo sempre relegato ai margini della nostra personalità e cioè la dimensione creativa noi ne riscopriamo l'esistenza nella relazione appunto nel rapporto con il maestro nella mia esperienza di psicologo clinico posso dire che i veri cambiamenti avvengono soltanto attraverso il rapporto interpersonale è il rapporto intrapsichico che viene attivato dalla relazione con l'analista io sostengo che nel rapporto analitico si ripristina una fiducia primaria di cui siamo stati deprivati nei momenti precoci della vita unitamente ad un'atmosfera psicologica di accoglimento anche questa nuova nell'esperienza di una persona sofferente inoltre la ricchezza spirituale che caratterizza il dialogo analitico rende questa esperienza unica sia sul piano umano e sia su quello culturale iniziando il paziente ad una visione del mondo e di se stesso del tutto sconosciuta soprattutto in questa situazione relazionale impariamo ad avere un rapporto con noi stessi prima mediato dalla funzione trascendente dell'analista e in seguito autonomamente cosa significa questa espressione riferita al campo analitico significa che l'analista mette in moto nel paziente un processo di trasformazione catalizzando appunto delle energie represse al contrario le persone negative come il narcisista tendono inconsciamente a distruggere la vita dell'altro squalificandolo schiacciandolo sotto il peso del loro giudizio e vedendo in lui soltanto le ombre e mai le luci in genere queste persone sono proprio i nostri genitori la squalifica non avviene solitamente con delle aggressioni dirette ma attraverso un atteggiamento che implica sempre una sottile disapprovazione verso il nostro modo di essere di agire naturalmente anche un maestro bisogna saperselo scegliere e non è detto che si debba cercare nell'ambito analitico perché la figura spirituale si può trovarla in ogni campo culturale nei libri di mistica orientale si fa sempre riferimento al rapporto di adico tra maestro e allievo nello yoga ad esempio il maestro cerca sempre di stimolare nell'adepto delle energie positive di cui ognuno di noi è dotato e cerca di far comprendere all'allievo questa energia in relazione alla forza delle sue caratteristiche individuali il mio orientamento nella prassi psicoterapica è definibile come ottimistico nel senso che io tendo a portare il paziente da uno stato iniziale di sofferenza in cui è rimossa la dimensione creativa ad uno stato finale in cui viene finalmente riattivata questa potenzialità che è in grado di operare un processo di autoriparazione autoriparazione attenzione l'ottimismo non è una fede priva di un senso ma un atteggiamento per cui non ci si dà mai per vinti e non si pensa mai che tutto sia perduto fin quando la realtà non porti una prova schiacciante io credo che non esista un istante della nostra vita in cui non si debba in qualche modo avere la possibilità di agire di intervenire ed è proprio in queste circostanze che è fondamentale attingere alla dimensione creativa attivando cioè quella capacità di vedere nessi nuovi tra le varie situazioni grazie a questa facoltà percettiva e cognitiva si possono trovare soluzioni insospettate a situazioni stagnanti come quando si guarda una stanza e all'improvviso ci appare una diversa possibilità di arredamento che migliora l'estetica e la funzionalità pur utilizzando gli stessi mobili e gli stessi oggetti e allora attraverso il rapporto con il padre spirituale si diventa consapevoli della propria unicità e dell'importanza di essere individui ognuno di noi deve sapere che rappresenta un evento irripetibile nell'universo perché solo attraverso questa coscienza si può riconquistare la propria dignità di essere umano che viene calpestata nel rapporto con il narcisista e allora quando noi riconquistiamo questa dignità nessuno potrà più attentare alla nostra persona minandone l'autostima e manipolandoci in quanto siamo tutti dotati di una bellezza psicologica che non è paragonabile a nessun'altra ed è necessario valorizzarla per cui dobbiamo diventare noi i nostri stessi maestri bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche oppure attraverso l'email per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona una consulenza specificando poi il vostro nome e gli orari preferiti inoltre potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 350 video divisi in varie playlist dal narcisismo la manipolazione i casi clinici eccetera sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto anche una pagina che si chiama la mia psicologia in bocca al lupo